In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo che caratterizzeranno questo fine settimana, puoi aggiornare i nostri telespettatori sulla situazione attuale del tempo? Ultime ore in compagnia dell'alta pressione e un'alta pressione che dopo aver dominato per gran parte del trimestre invernale su tutto il bacino del Mediterraneo decide di abbandonarci proprio in coincidenza con l'entrata della primavera astronomica e vorrei ricordarlo che oggi 20 marzo entra la primavera anche sotto il profilo astronomico. Nelle prossime ore un vortice depressionario dal Nord Africa si muoverà verso il mare Geo, interessando marginalmente anche la nostra regione nel corso di questo fine settimana. Questo sarà solo il preludio ad un drastico e direi brutale cambio di circolazione atteso dalla serata di domenica. Ho utilizzato il termine brutale poiché il cambiamento avverrà dopo il risveglio della natura che quest'anno è avvenuto con notevole anticipo. Dunque aspettiamoci importanti ripercussioni negative anche a livello agricolo. Che cosa ci aspetta invece per le giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo? Per domani sabato 21 marzo avremo cielo poco nuvoloso ovunque con passaggi di nubi innocue, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli meridionali e mare poco mosso. Domenica 22 cielo irregolarmente nuvoloso con una maggiore copertura sul settore centro meridionale della regione dove saranno possibili deboli piovaschi. Dal pomeriggio sera la nuvolosità tenderà ad aumentare ad iniziare dal versante orientale dell'Appennino dove saranno possibili precipitazioni sparse che nel corso della notte assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1500 metri ma con limite della quota neve in calo fin sui 1000 metri entro le prime ore di lunedì. Temperature in diminuzione dal pomeriggio, venti inizialmente deboli di direzione variabile tenderanno a disporsi da nord-est dal pomeriggio e a rinforzare vistosamente dalla serata. Mare da poco mosso a mosso. Puoi aggiornare anche i nostri telespettatori sulla prossima tendenza che caratterizzerà l'inizio della settimana prossima? A partire da lunedì entreremo in una fase di tempo a chiara connotazione invernale. Sulla nostra regione irromperanno correnti di aria molto fredda provenienti dalla Russia europea. Osservate la disposizione dell'alta pressione che dalle Canarie si estenderà in diagonale fin sulla Scandinavia operando un blocco alle miti correnti oceaniche e, favorendo d'altro canto, la discesa di aria fredda dalla Russia verso il Mediterraneo. Le temperature dunque subiranno una marcata diminuzione con valori che durante la notte su martedì 24 con tutta probabilità si porteranno al di sotto di 0 gradi centigradi nelle aree più interne. Durante le ore centrali della giornata invece non si trovebbero a superare i 10-12 gradi centigradi nemmeno lungo la costa.